Mano a mano che giorno dopo giorno si aggravava il bilancio del terremoto che ha colpito l'Italia centrale in termini di distruzioni, di feriti, ma soprattutto di morti, io mi sono domandato ma come mai questo terremoto ha fatto così tanti morti? Perché guardate, ha fatto più morti di quello dell'Aquila, è vero nel 2009 erano morte 309 persone, ma lì il terremoto aveva colpito 150.000 persone, mentre il 24 agosto quella notte ci saranno state 30.000, 40.000 persone Allora ho chiamato il mio operatore Massimiliano Torchia, siamo partiti venerdì alle 6 del mattino sono tornato ieri sera per cercare di vedere la situazione da vicino e quando sono arrivato da matrice ed ho visto le prime case crollate ho avuto come un flash, perché quelle erano le stesse immagini che avevo visto e girato a donna nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila Anche a donna c'erano così tante macerie, anche a donna le case si erano come sbriciolate andate in mille pezzi ed anche a donna l'unica parte ancora veramente visibile e riconoscibile delle case era il pesante tetto in cemento armato. Insomma le case di Amatrice erano antisismiche e avevano anche un tetto sopra quei muri sproporzionato come peso. Come vi farò vedere stasera da anni ormai abbiamo tutti gli strumenti per capire se una casa reggerà o meno a qualsiasi tipo di terremoto, ma da noi la prevenzione non parte mai. Adesso Renzi ha annunciato l'ambizioso piano Casa Italia, vedremo se alle promesse. Poi seguiranno i fatti, noi di presa diretta i terremotati non li lasceremo mai soli. Ma questa sera vi presenteremo la prima approfondita inchiesta sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore di 28 anni, italiano, scomparso al Cairo il 25 gennaio di quest'anno e ritrovato poi morto nove giorni dopo. Adesso sappiamo che è morto per le torture che ha subito. Pochi giorni fa ho incontrato i genitori di Giulio Reggeni, papà Claudio e mamma Paola. E la prima cosa che gli ho chiesto è parlatemi di vostro figlio. Ed ecco come l'hanno descritto. Era un ragazzo a passo coi tempi, sia nella ricerca, ma non solo, insomma, per il suo modo proprio di essere e di rapportarsi con gli altri. Era anche un ragazzo che si divertiva, che faceva cagnara, come si dice con gli amici. Quindi un ragazzo pieno di vita, di amici, di amiche. Infatti questi sono quelli che poi sono stati i primi che ci hanno scritto subito, subito appena eravamo. Poi il fiumicello è stata invasa da questi ragazzi e ragazze. E quindi era contemporaneo in questa, nella vivacità ed essere un ragazzo internazionale parlava anche tante lingue. Lo siete conquistata con fatica e con sudore la sua posizione? Certo, perché 11 anni via di... Lui è andato via che aveva 17 anni e mezzo, poi certo ritornava, alle feste, ogni volta, quasi sempre noi siamo andati a trovarlo. E certo che se l'è conquistato anche perché comunque era sempre tutto in un'altra lingua, perché per quanto parlasse bene inglese non era la sua lingua. Cioè ha sempre studiato tanto. Sì, proprio sudato, sudato. Aveva anche lavorato un anno, aveva anche risparmiato. E noi gli dicevamo vai avanti, perché secondo noi, almeno per la nostra generazione, studiare il massimo che si può offrire un figlio. No? E lui pesava. Dipendere ancora da voi economicamente. Pesava questo. E quindi se poteva, a parte per affetto. Diminuiva al minimo tutte le sue spese personali anche, no? E io gli dicevo non preoccuparti quando troverai un buon lavoro, ma un buon lavoro a lui non interessava neanche guadagnare tanto. Un buon lavoro era rispetto a realizzare le sue cose. Dicevo a noi basta che ci porti, visto che era una passione di famiglia, in un buon ristorante di pesce e così festeggeremo il raggiungimento del tuo obiettivo. E c'eravamo perché hanno spezzato la vita di un ragazzo che veramente dopo undici anni di fatica stava raggiungendo qualcosa. Era felice, aveva una storia d'amore, che anche questo è importante nella vita. E quindi mancavano due... il 23 marzo doveva ritornare a casa. Noi quando siamo andati a Cambridge, la sua bicicletta, che sul campanello aveva un bigliettino con scritto, pronuncia tu in inglese... Giulio Reggeni torna il 23 marzo. Così aveva scritto sulla sua bicicletta, che tenerezza. Stasera naturalmente vi farò sentire tutto quello che ci hanno detto i genitori. I genitori sono delle persone straordinarie, la cui forza è pari solo alla determinazione che hanno nel cercare la verità su quello che è successo al loro figlio, perché quello che è successo a Giulio Reggeni è terribile. Le notizie che abbiamo letto sui giornali sull'autopsia parlano di segni evidenti di tortura, sono state trovate sul suo corpo fratture, tracce di scosse elettriche all'altezza dei genitali, segni di sigarette su collo e orecchie, segni di botte dappertutto. E di queste torture che è morto Giulio Reggeni. Stasera parleranno da noi per la prima volta in televisioni due ragazzi egiziani che ci diranno che quelle torture hanno una firma. Sono le torture che praticano gli apparati di sicurezza egiziani contro i tanti oppositori di Al-Sisi. E inseguendo la storia di Giulio Reggeni abbiamo scoperto che in Egitto ci sono centinaia di Giulio Reggeni egiziani. L'ONG egiziana del Danem parla che solo nel 2015 ci sono stati 1670 casi di tortura, 500 di questi sono finiti con la morte del torturato e 464 casi di sparizione forzata di desaparecidos. Come sapete a sette mesi dal ritrovamento del corpo di Giulio Reggeni non è arrivato dall'Egitto alcuna verità, anzi un sacco di depistaggi così le tante domande che tutti abbiamo sono rimaste in evase. Chi l'ha preso? Chi l'ha avuto in custodia per nove giorni e l'ha torturato fino alla morte? Ma soprattutto perché lo hanno torturato? Cosa volevano sapere da lui? A chi faceva paura? Giulio Reggeni. Vi dico subito che non è stato per niente facile fare questo lavoro perché il contesto della storia di Giulio Reggeni è quella dell'Egitto di un paese in cui vige una dittatura, un paese in cui se tu vai in giro al Cairo e dici solo la parola Reggeni la gente scappa per paura. Siamo riusciti, lo stesso vi prometto un grande reportage stasera perché abbiamo messo veramente assieme tutti i fili di questa storia con qualche importante esclusiva su mandanti ed esecutori. Infine c'è un altro aspetto di questa storia e questo ci riguarda veramente da vicino perché l'Egitto del generale Alsisi è un nostro grande alleato non solo per le importanti relazioni commerciali che intercorrono tra i due paesi ma per il ruolo che l'Egitto ha nel bloccare l'immigrazione clandestina, nel combattere il terrorismo e per il ruolo che gioca nelle vicende libide e questa naturalmente è una cosa che complica di molto il raggiungimento della verità ma questa era solo l'anteprima. Adesso cominciamo per davvero.